Salve a tutti ragazzi, bentornati su questo canale, io sono Gian ed ecco tu! Pensavo a te che fosse Gian e invece sono io, Rexy, ora il canale è mio! Dunque, dopo ripetute discussioni, andate male per me, Rexy sarà con noi oggi? Quindi, salve a tutti ragazzi, bentornati su questo canale, io sono Gian e lui è Rexy, non mi picchia di nuovo, e bentornati al Gio Giovedì! Finalmente iniziamo parte 5, mi avete detto in modo gentile e amorevole, stressato su quanto fosse figa parte 5, quindi non vedo l'ora di cominciarla. Conosco il design di un paio di personaggi che ancora ci sono in Gio Gio, ma non so se sono di questa parte o della prossima. O se sono semplicemente invece di parti del manga ancora, perché come ho già detto nello scorso Gio Giovedì, ho visto alcuni volti su delle magliette e quant'altro. Lo stile era chiaramente quello di Araki, però potrebbero essere parti che ancora non ho visto. Conosco il design di un personaggio, biondo, che sembra avere una specie di motore, di radiatore sulla testa, non so se sia di questa parte o della successiva. Niente, direi di cominciare. Mi avete detto a proposito che lo stile che abbiamo visto in The Run è lo stile che vedremo qui. Mi va molto bene perché erano molto ben dettagliati i personaggi, come ho già detto non mi piacciono troppo come sono fatti invece gli occhi. Ma dato che abbiamo davanti a noi una parte che potrebbero essere 30-40 episodi, potrei abituarmi cinalmente. Non ho veramente altro da dire, se no ringraziarvi per tutto quanto affetto, supporto, cominciamo. Per una volta inizio che c'è l'audio, incredibile. E' subito lui! Le offro un geoclastico. Derubata! Com'è fatta a non notarlo? Com'è fatta a non accorgersi? Aspetta, ma gli ha dato una mazzetta per caso. E' chiaramente in stile JoJo. Nei quartieri più malfamati. Mi aspettavo una intro. A Napoli. A Napoli. Allora, avevo sospettato che saremmo stati in Italia, o quantomeno in Europa. Sono mesi ormai che parlavamo di questa cosa, perché mi sarebbe piaciuto tantissimo fossimo in Europa, perché l'idea di poter rivedere alcuni personaggi, come ad esempio Polnareff, mi prendeva tantissimo. Sarebbe stato bellissimo riportare certi personaggi in scena. Al tempo stesso, l'idea dell'Italia, mi piace tantissimo, tantissimo. Adesso, allora, Raki è molto bravo con la questione della cultura, dei posti dove ambienta le sue storie. Quindi, mi aspetto anche che sia fatto, ma tra l'altro sembra... Cioè, è proprio una fotografia di Napoli, praticamente, o comunque di una città italiana. Cioè, una cosa che vedresti tranquillamente dietro casa tua, da un certo punto di vista. Sono contentissimo, e il sospetto ce l'avevo nel primo episodio di Così parlo con Shiberon, per il fatto che aveva detto, ah, sarebbe bello poterci tornare. Ma pensavo fosse Roma, quindi Napoli. Evitando certi stereotipi, assolutamente, questo spiega anche il fatto che finora abbiamo visto scene di malavita. La famosa città di una destinazione turistica. Una bellezza tale che gli ha detto, vedi Napoli e poi muori. Da, da lui lo conosciamo. A Santa Chiara. E' proprio lui. Ok, non mi aspettavo questa voce. Ma scusa, calmati. Ha tra l'altro l'attaccaggiata. Come ho fatto con quella mano, scusatela? Bravissimo. Ok, niente storia, c'ho un radiatore in testa. Ok, è un bel tipo. Dovevo chiedergli una foto, appunto. Che sostenga bene, fare quelle farfalle in qualche modo. Come sono fatte bene! No, no, che cavolo ho appena visto? Scusa, è un mago. Beh, è chiaramente uno stand user, ma come cavolo è... Cioè, le farfalle erano i soldi? O le... Andiamo avanti. Ma tra l'altro, l'ho notato solo adesso, attorno a un secondo indietro. Anche per rivedere questa scena, che è molto strana. Ma quelle sono delle fie, appunto... Grande Araki. Questa città non devi mai passare la guardia. Ragazzi. È così strano! Ah, anche per il bambino. Gentilissimo. Quindi è buono, va bene. Avrei detto che sarebbe stato un teppista, anche da come è vestito, dall'apparenza che ha. E invece... Golden Wind. Ok. Non ti dobbiamo studiare se non c'è senza pinche qui stare. Vedi, andatene. Per me la farò me, no? Ah, il classico tassista che anticipa. Ma sì, così non dovete fare pila. Venite, venite. È una vacca. Don Luca. SPQR. Ma quella è a Roma, non c'entra nulla. Se volete comunque dovevi pagare miliardi di tratti, no? Che sta a prenderlo da non più? Ho una famiglia da sfamare. Faccio come se l'avessi tagliato, lo dott'anni ha tirato una fanga in fronte, però vabbè. Non so se l'avessi tagliato, l'avessi tagliato gli altri. Bello come c'è il... C'è il nome... Giorno. Giorno Joestar, immagino a sto punto. Ma tra tutti i nomi che potevano fare Gio come suono in italiano, Giorno, poteva esserci Giovanni, per dire. Joelle, Josue, qualunque altro Giorno. 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 Ma, cioè... Sì, però dopo. Non dovete capire che... Scusate, mi ha fatto ridere come lo dicono, però... Koichi... Cosa ci fa Koichi in Italia, scusami? Il volo è stato lunghissimo, ci credo. Ma domandola qui è decisamente diversa dal Giappone. Che ci fa Koichi lì? Koichi, Shimano. E quanto fa passato, perché siamo ancora molto giovani? Aspetta, prima. Che cacchio sta facendo? Lo stile di disegno era cambiato... cambiato un pochino una teatro di protezione con il tuo lavoro qui. Lo stile di disegno era cambiato un pochino per rendere tutto molto più... ...fluido. Andare a casa. Io c'ho... 180.000 lire per portarti. In che anni siamo ambientati? È passato pochissimo, a parte 4, perché lui è ancora il giorno buonissimo. Sto rovando di scrivere che sapevo parlarlo, quindi lui sta parlando in italiano. Non fai di queste cose. Se facciamo 10.000 lire? Cioè, 10.000 lire era una paghetta. Ah, faccio della fira. Tanto è chiaramente... Jojo, cioè lo vedi come è vestito? Mettiamo che ci sono le idee di fronte, dopo di che sia come disposto il sull'altro. Non pensavo sia un giapponese prodotto che non ha mai viaggiato in vita sua. Poi con Ecos. Ok, guarda che parte. Quanto lo sapevo. Quanto lo sapevo. Ha detto ciao? Era entro i 5 metri ancora? Dove credi andare? Zannennata ne... Non sto valutarmi. Nessuno riuscirebbe a me a dire che è giapponese. Fai i capelli con calore e si chiama Giorno Giovanna. Ma... Vabbè, Giovanna come cognome o Giorno il cognome? Darò per scontato che sia Giorno Giovanna proprio all'italiana. C'è qualcosa lì su sedile. E' una palla? Una rana? Che assista è là? Prima aveva le forfalle? Per me c'erano tutti gli adesivi. Potrei fare qualcosa da me su un tassista? Che stenda? Perché prima c'erano le farfalle. Poi era... era ferrarelle. Giorno Giovanna. Giorno Giovanna. Mi ha sentito parlare di me. Mi sento anche lui. Giorno Giovanna. Ehm... Mi ha fatto un momento in voto di continuare a combattere. Anche se l'ha pulita e l'hai guarita il suo occhio è sempre umano. Ah, ah! Ok, va bene. Io non mi siedere l'uomo accanto a una persona che va in giro con una banca. Quanti anni hai? 15. 15. 15! I nemici si esistono solo 3 mai. Ok? Mai mentire. Ok. Mai portare a rancore. Mai mancare di rispetto. Quello riportendo da ripartire dall'aeroporto. Maffioso, diciamo. Ma comunque... Posso? La situazione l'ho già pagata. Oh! Che cosa è? Un'amore. Che... No, non è possibile. Siamo a parte 5. E com'è possibile? È tornato Dio! Com'è possibile?! Che ci fa con la foto di Dio dopo tutto questo tempo? No, no ragazzi. Che ho un coppo al cuore! Che ho un coppo al cuore! Il tuo parente! Non lo faccio ripetere questa cosa da una volta. L'ho già pagato. Perciò ora non ho più soldi. Oddio, non è che per questo che è biondo è in qualche modo pregato a Dio in quel senso. Non può essere vero. Oh! La gialla! Che cosa è? Il tuo figlio è... È tornato. È così, è vero. E' un po' di questo che non parli. E' un po' di questo che non è ancora più confinato. Non è che completamente fedele. No, 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 no! Scusami! Cosa? Voglio attaccare le voce contro le voce. Voglio attaccare il fatale contro lei stesso. E' illeso! E' la valigia! Allora, sono troppe cose da assimilare. Intanto è collegato a Dio. In qualche modo è collegato a Dio. Già che dice muda muda muda... Che sia una rincarnazione di Dio, magari? No, 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 no! Devo staccarmi un attimo da... Così parlo che ci vedo avanti. Devo staccarmi un attimo da così parlo che ci vedo avanti. E' uno stand, chiaramente. In qualche modo... Il suo stand... Prende oggetti... Diventano cose fisiche, tipo i soldi prima... O la valigia adesso... E i colpi che subiscono... Questi esseri viventi... Vengono fatti rimbalzare contro le persone. Tipo questo qui che è un poverino... Si è fracassato il cranio! Come? Che be... C'è la sardigna! Guarda che pene! C'è la sardigna! E' un po' di l'amore del bambino? E' un po' di questo tizio? C'è... C'è anche... E' una fondazione Speedwagon! Guarda, non è cambiato niente! Sempre con il cappello che si infonde... Siamo di nuovo al locale... Siamo in Giappone, chiaramente... Scusate... E' un Joe Star? Abizza! Volentare a provare la nostra cucina? Impossibile... Per riuscirlo... Cassato! Come fate a trovarmi? Un caso... No, no, no... Non vedo nessuna parte... Prima non è stato un guasto all'alto... Che bello... Che bello ha comprito... No, no, no... Aspetta... L'ha chiamato Golden Wind... Ma non è... No, non l'ha chiamato Coslo... Gold Experience... Mi pare... Torato... Appunto... La spazio... Oh! E' questa musica... La Tag on Titan! Ah, che cosa da così? Ma non si chiama? Non si chiama? E' questa musica... L'ho chiamata così facilmente... Cioè l'Hunter sta crescendo? E gli ha rimbalzato contro l'effetto Gli sono ritorto contro Ho preso qualcosa che ti parte Eppure ti sento che non è giusto Quello l'albero così E' un Jojo Chiaramente Vabbè un teppista come tutti Jojo Praticamente C'è il così Da sub e quant'altro Perché lui ha fatto la laurea Oh e il ragazzo della foto Che però è diventato biondo Ha fatto l'acconciatura e quant'altro Non è giusto L'ha incontrato tutto pure casa Inoltre Mi sono stati comportati Inoltre E io ho fatto un gioco Io ho fatto un sogno E' un sogno E' un sogno E' un sogno Che è il sogno E' il sogno E' il sogno Oh mio Dio quella foto Suo padre Non dire Dio Oh bisogno di un attimo Ma che cazzo Solo quest'anno ho scoperto che era molto probabile Che Dio avesse avuto un figlio Certo da vampiro come no Un altro attimo per questa musica Ha ereditato il corpo Il corpo di Dio non era Non era la famiglia Jostar Il fatto che i capelli si sono diventati Biondi era proprio anche di recente Il sangue di Dio si è suggerito di lui Ecco perché è dorato Non è possibile ragazzi Non è possibile È tornato Dio in un'altra forma È un nostro nemico O forse è un nostro nemico Un po' neutrale devo dire Non è cattivo Mi ha dato l'impressione di essere molto C'è assomiglio pure cavolo Questo è il personaggio che conoscevo Che avevo visto una maglietta Certo che comunque si riconoscono tantissimo Perché c'è i cosi tipo Gli occhi di Ecos? Diciamo che prendi una borsa Con un milione di auto di rire Ok La porteresti alle autorità? Ma assolutamente Non me la terrei Sei proprio un po' neutrale Ma se io fosse un polizio di incognita di tre Ho un mese di visto prenderla? Ti darei metà i soldi E ti farei chiudere Nooo Non lo puoi dire Non ci pensa la gente che dice La verità o meno Ok Un'incertezza quasi assoluta Questa è quando rappellati Oh no Cioè stanno condessando in una sola puntata Tutti i leme Questa è il suo compare Sicuramente è uno stand user anche lui Perché uno è visto che in questo modo Due Si attirano tra di loro Faccio parte di una barba Non so che le persone che ci avevano con lui E lui senza dubbio sapeva bene Come farsi ogliere dagli altri Però il boss non mi torna niente di tutto Ok quindi non era lui il boss Lui era solo un lache Non leccarlo Non leccarlo ti prego Certo che comunque se qualcuno ti si avvicina Quintanto a quello che ti forse e quant'altro Non è che stai tranquillo eh Troppo vicino Troppo vicino Non stai sudando Scusa il disco Giovanna Cosa è questo? Non è che 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 L'occhio Ma anche La leccata Ma la stazione sembra essere cambiata Giorno Che Molto carismatici Questi personaggi In parte 5 Cosa c'è? Cosa c'è? Mi chiamo Bruno Bucciarati Bruno Bucciarati Scusa c'è? 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 Cosa c'è? ight pensavo fosse la intro di solito alla fine puntata nel Jojo appunto spero scritto con G-I mi piace e dicevo di solito alla fine puntata nell'episodio pilota delle parti o comunque dei primi episodi in generale degli anime viene messa la intro come ending e invece stavolta non l'abbiamo avuta ok quindi per la intro dovremmo aspettare lo prossimo episodio che arriverà settimana prossima ragazzi mi spiace per il fatto comunque che mi avevate suggerito la quantità di episodi da guardare insieme per avere anche un senso di continuità tra le cose che stanno succedendo dunque c'è molto da dire prima di tutto incredibile come nessuno mi avesse mai detto sta cosa di Dio ma allora Dio è stato a lungo il mio personaggio preferito in Jojo che è carismatico e malvagio ragazzi a me piacciono i villain la maggior parte delle volte i villain mi fanno impazzire perché sono generalmente i personaggi che vengono meglio caratterizzati nelle storie per spiegare il perché soprattutto sono villain quando sono fatti bene altri invece sono cattivi perché sì ma in generale Dio mi è sempre piaciuto tantissimo come personaggio più in parte 1 che in parte 3 in certi momenti ma in parte 3 ha dato veramente al massimo non mi aspettavo l'idea di letteralmente una resurrezione che poi non lo è ok e il figlio quanto l'ha avuto scusami vabbè con chi poi cioè ha fatto un giro in Italia per un po' così dall'Egitto prima di andare in Egitto magari scopriremo tutto nei prossimi giorni molto bello lo stand non ho ben capito il suo potere perché da una parte riflette gli attacchi dall'altra crea insetti rane piante vabbè vedremo un po' mentre questo Bucciarati Bruno Bucciarati sembra avere uno degli stand più schifosi che io abbia mai potuto posare gli occhi sopra no forse non è il termine giusto da dire visto anche quello che abbiamo appena visto lasciamo stare ragazzi io vi ringrazio tantissimo per il supporto che ci date per la pazienza che avete come sempre noi ci vediamo giovedì prossimo con il Giovedì e appena possibile con delle live vi ringrazio tantissimo lasciate un mi piace iscrivetevi al canale se vi piacciono i video ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao